Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Vristaddiction. Io sono Marco Bracca e sono un appassionato di orologi. È cominciato il 2020 e qual era il modo migliore per cominciare questa nuovissima stagione del canale se non con il secondo episodio di Story of Vristaddiction? Se non sapete di cosa sto parlando, andate a recuperare il primo episodio di questa nuova serie che è stato un po' un episodio extra, ma che ho deciso di tramutare in una serie ad episodi. Tanti di voi già lo sapranno, ma lo ripeto, lo ripeterò. Il mio profilo Instagram è costruito sulla base dei vostri scatti, delle vostre foto, dei vostri orologi e quindi quello che stiamo costruendo con la mia pagina è un luogo che dice tanto sulla nostra community e sulla nostra passione, pieno di scatti bellissimi e questa cosa mi riempie veramente di gioia. Le foto che tanti di voi mi mandano via email spesso e volentieri hanno come allegato, diciamo così, anche delle storie da raccontare, storie di vita che legano i proprietari a questi orologi. Questo luogo, questa serie, serve proprio a questo, a raccontare queste bellissime storie, perché meritano, meritano di essere raccontate. Prima di cominciare, ragazzi, breve wristwatch check. Oggi sto indossando il mio nuovo, tra virgolette, Seiko SKX 007, l'ex orologio di mio padre. Sì, questo orologio qua me l'ha regalato mio papà ormai circa un mese fa e ovviamente potete immaginare la mia gioia al momento del dono. Questo qua è stato uno dei suoi orologi automatici degli ultimi anni ed è stato forse una delle cause che ha fatto nascere la passione per gli orologi dentro di me. Non è stato un caso il Seiko 5 come prima scelta. Glielo vedevo sempre indossare, quindi Seiko per me era entrata nell'Olimpo dei sogni. Come potete vedere, l'orologio lo sto abbinando, secondo me, molto bene con una camicia. La camicia è la stessa che ho indossato nella recensione del Pierre Polen, la camicia che Lanieri mi ha fornito in collaborazione. Veramente comodissima e su misura. Mi hanno trattato veramente coi guanti, è stata un'esperienza molto interessante. Vi lascio qui sotto in descrizione un codice sconto se siete interessati anche voi a provare questa esperienza della camicia su misura. Ora andiamo al video. Ecco a voi il secondo episodio. La prima storia che ho deciso di raccontarvi è del mio iscritto Francesco e del suo primo orologio meccanico. Mi chiamo Francesco e volevo condividere con te e tutti gli iscritti il mio orologio. Per me questo è un segnatempo con un grande significato, oltre che di una bellezza e di un'eleganza senza tempo. Ho deciso infatti di comprarlo in ricordo di mia zia Anna, una donna fantastica, umilissima, grande lavoratrice, che ha accodito me e i miei fratelli in questi anni, i miei sei fratelli. Mi ricordo ancora il giorno in cui le feci vedere questo segnatempo. Le dissi che un giorno, quando avessi iniziato a lavorare, sarei riuscito a comprarlo. Così lei mi guardò e subito tirò fuori dal portafogli una banconota dicendomi «Tieni, ti aiuto io a comprarlo, mettili via perché ci vorrà tempo e pazienza». Ho inseguito a lungo questo orologio e così, dopo quattro anni lavorativi, pieni di sacrifici, ho riempito piano piano il salvadanaio, alla quale mia zia aveva gettato le fondamenta. Ora mi porto felicemente a casa questo bellissimo pezzo, l'Omega Constellation, il mio primo orologio meccanico, automatico, accompagnato dal grande insegnamento che nella vita, con il sudore e la fatica, è possibile perseguire qualsiasi obiettivo. Grazie zia. Francesco, grazie mille per questa condivisione, veramente bellissima, non c'è bisogno di dirlo, tieni sempre con cura questo orologio e sarà per sempre un bellissimo ricordo per te. Grazie. Andiamo avanti passando alla storia di Andrea, che mi ha fatto rivalutare tantissimo le ristampe di alcuni orologi vintage, come in questo caso. Questo orologio, oltre ad avere un grandissimo valore sentimentale, è stato il segnatempo che mi fece appassionare a questo fantastico mondo. Ed è grazie a lui che ora sono qui a scriverti, dopo aver conosciuto il tuo canale, che ha tanto aiutato un ignorantone come me a capire qualcosa di questo mondo. Grazie mille. Questo orologio fu il regalo della mia bisnonna a mio nonno. Mio nonno adorava questo orologio, perciò dopo anni di onorato servizio, decise di fargli fare anche il bracciale in oro. Purtroppo, qualche anno fa, mio nonno se n'è andato. E questa cosa, questo orologio, è l'unica cosa che mi rimane di lui. Quando mi arrivò, era in pessime condizioni. Mio nonno era un uomo che adorava sporcarsi le mani. E questo, nonostante tutto, e anche e soprattutto il valore economico, era il suo muletto giornaliero. Mi arrivò con il vetro crepato, il quadrante ingiallito, c'era persino della sabbia dentro, ed il meccanismo perdeva qualche colpo. Dopo essermi informato, grazie a te e ai canali come il tuo, e dopo aver capito cosa avevo tra le mani, decisi che per rendergli onore dovevo farlo tornare come nuovo. Allora lo portai da esperti orologiai, che lo portarono di nuovo ad uno splendore mai visto. Mia nonna stessa, quando lo vide, si emozionò. Questo è stato il primo della mia collezione, che sto cercando man mano di ampliare. Spero ti piaccia, tanto quanto piaccia a me. Grazie dell'attenzione, ed un caloroso saluto. Grazie mille per questa condivisione, me la ricordo benissimo, e appunto mi ha fatto rivalutare le ristampe. Di solito io sono per l'originalità sempre, ma questa è una storia diversa. La storia di un orologio che ha avuto una vita insieme a tuo nonno, e che tu stesso hai deciso di revitalizzare completamente, però senza snaturarlo, senza fargli perdere l'anima, perché era così come lo amava tuo nonno. E questo non ha prezzo, perché sono orologi che ha senso migliorare per tenerli per sé per sempre, tenerli nella propria famiglia senza mai venderli. Hai fatto solo bene, grazie mille, e rivalutiamo le ristampe. Questa è la storia di Dino. Sicuramente sono figlio dell'era del marketing, classe 82, e delle collaborazioni sportive. Così da ragazzino mi convinsi che il vero orologio fosse Tagoyer, dal nome che vedevo sulla vettura di Senna, e che in altre occasioni ho visto sul polso di attori famosi. Questa cosa mi rimane dentro, seppur non gli abbia dato tanto peso. E così gli anni passano, mi diplomo, inizio a lavorare, e lavorando inizio a capire una cosa, che per dare una scossa alla mia professionalità, ho bisogno di una laurea. Pensa che ti ripensa, mi decido. Lascio il cosiddetto posto fisso, in quanto credo che quel lavoro non abbia nulla da darmi, oltre a quello già dato. Torno a casa e comunico la mia decisione. Licenziamento, iscrizione all'università, e contestuale ricerca di un part-time. È il 2009, ed ho 27 anni. Che gran coraggio, complimenti. Inizia un percorso che mi porta a amicizie solide ancora oggi, e che darà tante soddisfazioni sia a me che a mia madre. Così, quando arriva la domanda, cosa ti piacerebbe come nostro dono? La risposta è immediata, un orologio Tagoyer e un MacBook. Le finanze familiari non permettono così tanto, purtroppo, per cui devo scegliere. Non seguo al cuore, bensì la ragione, e opto per il computer. Il sogno dell'orologio, però, è ancora lì, fortissimo, per cui inizio a guardare il sito e di vari modelli, comprendendo che però, al momento, l'acquisto è impossibile. Non mi arrendo, nemmeno sul lavoro, così cambio tre aziende, e, nel 2016, assunto di nuovo a tempo indeterminato, capisco che forse è arrivato il momento propizio. Cinque mesi dopo, risparmiando, mentre sono a Portofino con la mia morosa, entro in una gioielleria, no, non è stato casuale, ed arriva il modello sognato anni prima, il Carrera, in una veste recente, ed in linea con la mia nuova cultura orologera. Infatti, sul marchio, è riportato solamente Hoyer. Quando lo guardo, vedo il successo personale e la forza che i desideri riescono a dare. Proprio per questa mia esperienza, mi sono permesso di dirti di lasciar perdere le critiche e concentrarti sul tuo sogno. Solo così, questo sogno diventerà realtà. Pertanto, vi mando il mio più sentito in bocca al lupo con la foto qui sotto. Dino, grazie mille, una condivisione fantastica. Ricordo che mi diede una botta incredibile all'autostima, perché in quel periodo, su Instagram, forse avevo comunicato un po' di tristezza, e ricevere questo messaggio via mail mi diede un coraggio incredibile ad andare avanti nel mio progetto. Grazie mille. Cosa dire? Il coronamento di un sogno, con un orologio bellissimo, è una storia fantastica che può essere solamente di insegnamento a tante altre persone. Grazie mille. Proseguiamo con la storia di Francesco. Ciao Marco, ti invio la foto del mio Brightling Colt Crono da 44 mm. Ci sono molto affezionato, perché mi è stato regalato da mia sorella dopo che i ladri mi rubarono in casa tutti i miei orologi, che collezionavo sì da bambino. Mi dispiace veramente tanto. Pochi erano di valore, ma ovviamente avevano tutti un valore speciale per me, che andava ben oltre il mio aspetto economico. Tra gli orologi rubatomi c'era anche un Brightling Cronomat dei primi anni 90. Lo adoravo, mi fu passato da mio padre. Beh, vedendomi davvero afflitto, mia sorella, quando le fu possibile, mi regalò questo ragazzaccio, e da lì ripartì la mia collezione. Francesco, mi dispiace veramente tanto. Una storia al contempo molto triste, ma appunto allo stesso tempo ricca di speranza, perché questo orologio è stato un po' una rinascita, come se quel Brightling fosse in qualche modo tornato tra le tue mani sotto una veste nuova, più moderna. Quindi, mi dispiace tantissimo per quello che ti è successo, ma al contempo si vede che tua sorella ti conosce e ti vuole bene. Congratulazioni e goditelo per sempre. E ricomincia a collezionare. Coraggio. E la prossima storia, l'ultima di questo episodio, ma non la meno importante, nessuna è la meno importante, è il racconto di Adriano. Mi piace pensare che gli orologi che indossiamo siano soltanto di passaggio sui nostri polsi, perché voglio immaginarli fra tanti anni ancora qui sulla Terra, ormai in nostra assenza. Adriano, bellissimo pensiero che condivido pienamente. Ho sempre avuto una grande passione per gli orologi, ma il mio lavoro non mi consentiva di acquistarne di lussuosi. Ma facendo enormi sacrifici e portando l'impegno al massimo, sono comunque riuscito ad arrivare ad un buon livello imprenditoriale. Congratulazioni. Dunque, ho deciso di iniziare la mia collezione. Ho saputo poi della nascita di mia figlia, quindi ho iniziato a prepararmi. Volevo garantirgli qualcosa che fosse uscito magari fuori produzione, qualche Rolex, ad esempio. Poi mi è capitato questo meraviglioso Batman e mi sono detto ecco, mia figlia potrà sempre contare su di me, e spero di essere il suo supereroe per sempre. Così le ho regalato questo orologio per il suo battesimo. Mi sono detto, mia figlia quando sarà grande dovrà avere qualcosa che io non ho mai potuto avere, ma che sono riuscito a realizzare. Per lei. Ti amo, Aurora. Allora, mi sto ricommovendo di nuovo, stessa reazione che ho avuto la prima volta che ho ricevuto questa mail. Adriano, grazie mille, è una storia fantastica come si fa a non commuoversi. Grazie intanto per la fiducia riposta nell'aver inviato una cosa così personale a me e a tutti noi. Hai comprato un grande orologio, un signor orologio che sarà veramente un tesoro nelle sue mani per sempre. Però, piccolo consiglio da appassionato, usatelo un po' te prima di donarglielo. Grazie mille, Adriano, e con questo termina l'episodio, ragazzi. Se il video vi è piaciuto, ovviamente, lasciate un bel like qui sotto, ragazzi, e non dimenticatevi di commentare per dirmi cosa ne pensate di questo video, di queste storie, o se ne avete una voi stessi da raccontarmi. Volevo ringraziare alla fine del video, come sempre, tutti i miei patrons, i miei sostenitori attivi che permettono a me e al mio progetto di andare avanti con una donazione fissa mensile. Se volete aiutarmi anche voi, vi lascio qui sotto il link in descrizione. E, ovviamente, se non siete ancora iscritti al canale, cosa state aspettando? Cliccate questo link. Grazie a tutti. Grazie a tutti.